Il nostro istituto ha perso un fiore e il nostro giardino non sarà più lo stesso. Uniamo il nostro dolore a quello dei familiari e degli amici per quel volto che non vedremo più e per quel sorriso che non illuminerà più i nostri giorni. Nicolò, che Dio ti abbia in gloria. Studenti, docenti e operatori dell'Istituto Vanoni di Menaggio ricordano commossi e sconcertati Nicolò Mainoni, il diciottenne di Menaggio, morto ieri per un incidente sulle piste da sci di Folgarida. Il ragazzo, durante una discesa, è andato a sbattere contro un albero, riportando ferite e traumi gravissimi. La dinamica del tragico incidente è ancora al vaglio della polizia della questura di Trento. Il giovane sciatore è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è purtroppo morto poco dopo il ricovero. Nicolò era in vacanza in montagna con i genitori e il fratello. Sotto shock l'intera comunità di Menaggio. La famiglia vive a Loveno ed è molto conosciuta e apprezzata in paese. Una tragedia ha colpito il nostro paese, ha scritto il sindaco Michele Spaggiari sulla pagina Facebook del comune. In un incidente sugli sci in Trentino ha perso la vita Nicolò Mainoni, che con la famiglia viveva a Loveno. Al papà Fabrizio, a mamma Simona e al fratello Alessandro vanno le nostre più sincere condoglianze e l'affetto di tutta la comunità.